Ciao ragazzi, ciao scimmia, andiamo di nazionale di calcio dell'Albania Rosa della squadra, certo, c'è la partita di calcio, yeeey! Sio scimmia, c'è la partita di calcio della squadra, di nazionale di calcio dell'Albania Rosa della squadra, certo, io vado alla partita di calcio nazionale di calcio dell'Albania Rosa della squadra, certo, vai scimmia, gioca, vai, 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 vai! Pala, vuoi provarlo, calciami il piede, certo, no, 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 provalo, no, 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 chiss! vuoi provarlo eh, palla vuoi provarlo calciami la palla no, si 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 non mi calciami la palla non mi calciami la palla non mi calciami non mi calciami Tu, cosa hai calciato la palla? Davvero? Raccontati pure, cosa hai giocato, la palla e niente, raccontati. Cosa hai fatto? Raccontati. Un po' mi sono giocato la palla e poi hai imbalzato la palla e poi mi sono giocato benissimo, benissimo, bene. Bravo, hai raccontato benissimo, sei stato molto gentile. Oh, famiglia scimmia, stop! Nazionale di calcio. Ok, Stewie, get the camera ready. I'm a penis! Stop it! What the hell are you doing? What do you think I'm doing? I'm bonding with Stewie. There is nothing more precious than a baby's laughter. I'm